Questa è una cosa che bisogna considerarla già giustata. Il sottoscritto non permetterà mai che una grande parte del territorio calabrese, in una condizione nella quale i servizi purtroppo sono quelli che sono i servizi sanitari nella nostra regione, non è possibile lasciare un vasto territorio e una parte importante di popolazione senza un presidio come l'elisoccorso. Perentorio ed agguerrito. Il governatore Mario Oliverio ha partecipato questa mattina al simbolico sit-in messo in atto dai sindaci contro la chiusura dell'elisoccorso di Ciro Marina. Una vicenda che si inserisce in uno dei momenti più delicati tra il commissario d'acta Massimo Scura e il presidente della regione. Rapporti ormai più che sfilacciati loro e se l'ingegnere pensa già alla gara d'appalto per la nuova base di elisoccorso, Oliverio frena. Ci sono in media quattro interventi a settimana. Se non ci fosse qui questa postazione, quei quattro interventi si farebbero sicuramente con maggiore ritardo e con più alto rischio per i cittadini. Un'elisoccorso importante è quello di Ciro Marina, che oltre a servire un'area vasta si distingue per il numero di interventi che è chiamato a prestare settimanalmente. Fino all'espletamento della gara si mantengono i servizi come sono e noi interverremo perché sia modificato questo punto. Questa fretta a decretare la soppressione dell'elisoccorso non so da cosa nasce. Tiziana Bagnato per la C News 24.